Vento, vento, tanto vento! Stamattina a Tirocinio, oggi pomeriggio in giro con colleghi nella tradizione street foodiana torrese. Stiamo al porto, che già abbiamo imparato a conoscere e dopo la prima tappa di aperitivo standard La seconda tappa è stata quella della bullanchella, servitaci dalla fantastica number one nanas che ha deciso di farsi filmare spontaneamente e di essere anche citata nella parte, diciamo, mangereccia. E adesso, terza tappa, Zeppolone. Quindi per cui dovremmo poter vedere, diciamo, l'altra eccellenza torrese. Vediamo come prosegue. Dopo tanta strada fatta a piedi siamo finalmente arrivati. Lo Zeppolone te lo devi guadagnare. Ciao. è un video e soprattutto è bollente il tour sta continuando e leggermente appesantiti ci dirigiamo verso l'upereo mousse e io non mangerò questo è un'autopsia non è un pranzo anche questo credo sia un pezzo di intestino è un po' e per fine c'è anche spazio per il canzimocchio pedalare non è mai stato tanto complicato è un po' è un po' è un po' è un po' è un po'